Un grande saluto amiche, un grande saluto amici di Rossini TV. Siamo tornati con Guipesaro TV dopo quasi un mese che non eravamo qui presenti in studio con gli appuntamenti per sapere cosa succede nell'ambito del nostro comune, della nostra amministrazione comunale. Eccoci finalmente qui sabato 29 gennaio. Siamo con un assessore del comune di Pesaro, l'assessore all'innovazione che si chiama esattamente Francesca Frenquellucci. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Francesca grazie a te di essere venuta, una persona giovane, io direi quasi una ragazza, una ragazza che ha scoperto la passione per la politica, che si è buttata a capofitto in questa avventura, si è messa in gioco, nonostante famiglia, lavoro e tutto quello che ne comporta, a dimostrazione che se si vuole si può. Sì, grazie, troppo buono. È iniziato circa tutto dieci anni fa, quando ho iniziato ad essere militante del Movimento 5 Stelle, quindi ero un'attivista, mi sono sempre occupata della parte delle attività economiche della città, anche perché io arrivo dal mondo del commercio e quindi ho una famiglia che alle spalle ha sempre lavorato in questo ambito commerciale, quindi mi sono sempre occupata del fabbisogno delle attività del territorio, quindi anche le mie battaglie che facevo prima da opposizione erano sempre per cercare di aiutare le piccole e medie imprese. Scendevi nel pratico proprio, scendevi nel pratico. Sì, esatto, ho sempre cercato di essere molto concreta, perché ho sempre pensato che appunto quando io mi ritrovavo in alcune situazioni difficili, avevo bisogno, quando ero nel commercio e parlo, avevo bisogno di risposte certe e quindi sto cercando di fare la stessa cosa ad oggi, che sono dentro le istituzioni, che molte volte mi rendo conto, perché è un conto essere all'opposizione, ma poi quando si è a governare cambia tutto, cambia la responsabilità e anche poi tutto l'iter burocratico e tutto quello che c'è da seguire, le risposte che hai bisogno da parte degli uffici competenti, la fattibilità delle richieste che arrivano, quindi diventa tutto molto più complicato, però diciamo che l'impegno e la volontà ce la stiamo mettendo tutti. Anche molto stimolante immagino. Francesca, poi tu sei stata al centro di cronache nazionali anche, ci dicevi prima che tutte le volte viene tirata fuori questa cosa, ma è abbastanza normale, perché la vicenda che ti ha visto coinvolta con l'espulsione dal Movimento 5 Stelle e poi il reintegro è finita su tutti i quotidiani. Sì, diciamo che è stato un momento difficile quando ho avuto l'espulsione, perché comunque i miei valori li ho sempre mantenuti, li ho comunque mandati avanti anche quando mi sono trovata fuori dal Movimento 5 Stelle. E devo dire che questo poi è stato premiato, perché con fatti alla mano è stato dimostrato che comunque quello che avevamo promesso ai cittadini durante la campagna elettorale, lo abbiamo continuato a fare, anche se poi io ero all'esterno. Di questo devo dire anche grazie ai consiglieri Lugli e Vanzolini, che mi sono sempre stati vicini, ma anche al gruppo di Pesaro, di attivisti, quelli diciamo, quelli veri, io intendo quelli attivi, che sono sempre stati nelle tematiche, sono sempre rimasti sul pezzo, e sono soprattutto propositivi, propositivi per il bene della città e il bene comune dei cittadini. Cogliamo l'occasione per salutare Lorenzo Lugli, che è stato mio compagno di scuola, quindi mi fa molto piacere salutare il vecchio, come lo chiamavamo noi ai tempi della scuola, Julius. Esatto, è vero. Esatto, era il suo nomignolo. Francesca, però tu questa settimana sei stata protagonista di quello che è il late motive, diciamo, della cronaca pesarese di questi giorni. Direi che per introdurre l'argomento adesso la cosa migliore è vedere il servizio che ha realizzato Rossini TV tre giorni fa e che riguardava proprio questo regolamento sul decoro cittadino. Guardiamo il servizio. Dopo lunga gestazione, il comune di Pesaro ufficializza il suo nuovo regolamento comunale per il decoro urbano del centro storico. Un regolamento che, pur attenendosi al rispetto della legge nazionale, mette alcuni paletti alle liberalizzazioni finora adottati solo da pochi casi in Italia come i centri di Arezzo e Savona. Un regolamento che vuole amplificare la qualità e la diversificazione dell'offerta commerciale del centro vietando l'apertura di certi tipi di attività nel Cardo e nel Decumano, ovvero da via Branca a via Rossini, dalla piazza a via San Francesco e al Corso. Zone in cui di fatto non potranno più essere aperti bazar etnici, centri scommesse, compro oro, lavanderia gettone, carrozzerie, sexy shop, internet point o distributori automatici. Attività comunque consentite nelle vie secondarie. Una porta che si chiude per aprirne altre che caratterizzino e arricchiscano l'offerta commerciale del centro. È il primo comune che porta avanti con coraggio insieme alle associazioni di categoria questa iniziativa. È un'iniziativa che riguarda solo il Cardo e Decumano del centro storico, maggiormente dove vengono limitate alcune attività di compro oro, di scommesse, oppure ci sono attività che riguardano i bazar. Per il resto invece del centro è anche un modo per incentivare le vie secondarie. Durante il lavoro fatto di questi mesi insieme all'associazione di categoria si è pensato di valutare questa soluzione anche perché la legge ce lo consente dove ci sono aree storiche, comunque culturali o per un discorso ambientale si possono prendere delle misure da parte di un comune e adottare dei sistemi che portino alla valorizzazione del prodotto enogastronomico e all'artigianato del locale. Limitazioni che saranno bilanciate da agevolazioni specifiche per aprire nuove attività. Per le nuove imprese che vogliono aprire abbiamo pensato a delle agevolazioni, dei canoni calmerati. Adesso faremo tutti, una volta votato in Consiglio Comunale, faremo gli incontri con le varie agenzie immobiliari per aiutare nuove imprese a entrare nel mercato e dare supporto soprattutto all'imprenditoria giovanile e all'imprenditoria femminile. Nuovo regolamento applaudito dal sindaco Matteo Ricci che ha reputato il provvedimento un salto in avanti di qualità coerente al lungo processo di riqualificazione di palazzi storici del centro per il quale il comune sta ottenendo finanziamenti in serie. Un regolamento al quale guardano con speranza le associazioni di categoria. Speriamo, noi siamo convinti che con questo tipo di impostazione anche per il futuro si possa arrivare a ripopolare il centro storico. Abbiamo, a parte Cardo e Decumano, ma abbiamo anche tutto il resto del centro storico che è effettivamente un po' vuoto. E con questo, aggiungendo qualità, aggiungendo vetrine accese, aggiungendo persone che in città ricominciano a passeggiare, quindi a ripopolare veramente tanto la città, riusciamo anche a riqualificare e a far ripartire finalmente, nel vero senso della parola, il centro storico. Salto in avanti di qualità ma anche di diversificazione su un centro che Davide Ipaso ha reputato ultimamente appiattitosi solo su abbigliamento, biancheria e gioielleria. La diversificazione tabellare dà l'opportunità al nostro centro storico di diventare un centro commerciale naturale. Quando manca la diversificazione tabellare, ossia non ci sono le diversità proprio dei prodotti, dei negozi, io vado in un centro commerciale, non vengo nel centro storico. E' questo che noi stiamo cercando di riportare, la voglia di rifare le vasche come si facevano una volta, ma non con la nostalgia, adeguandoci ai tempi del commercio e del mercato, che si sono nettamente diversi da quelli che erano 30 anni fa, però ridare il lustro al centro con una diversificazione tale che dà l'opportunità a tutti di entrare nel centro e comprarsi la pasta fresca, comprarsi un paio di scarpe, prendere i pantaloni, andare a fare le macchinine per i bambini, giochi per i bambini o altro. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare. Ce la faremo? Secondo me sì, l'unica cosa è che non dobbiamo andare contro una legge nazionale, ma ridare l'opportunità di incentivare determinate attività che purtroppo nel centro non ci sono, di dire io nel centro ci vado perché commercialmente è appetibile e anche economicamente ce la faccio. Perfetto, Francesca, abbiamo visto quello che è stato un po' deciso a livello cittadino, tutto ciò ha portato a delle conseguenze, ha portato a delle conseguenze con delle reazioni, anche con delle situazioni che sono state un po' create per certi versi dai media, perché ovviamente i media si sono lanciati sull'argomento raccontandole in un certo modo. Vogliamo sentire adesso come si dice la versione di Barney, cioè la versione di Francesca. Esattamente, allora, proviamo a spiegare il significato di questo regolamento. Allora, innanzitutto il regolamento è stato deciso in condivisione con le associazioni di categoria. Hanno partecipato a varie riunioni, CNA, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti. Durante questi mesi, che sono tre mesi dove lavoravamo al decoro del centro storico, abbiamo voluto ulteriormente coinvolgere i cittadini, le imprese, grazie anche agli stati generali che abbiamo fatto sabato 15 gennaio. Due settimane fa, sì. Esatto. E che abbiamo mandato in onda noi di Rossini TV in diretta per tutti i momenti salienti. Esatto, quindi avevamo già presentato alcune linee principali di questo regolamento la quale stavamo lavorando. Anche tutte le persone che erano presenti in quell'occasione non c'è stato nessuno che sia intervenuto in modo contrario a questo regolamento. Poi, in giunta, ho portato una prima volta una lista di quelle attività che si pensava tramite il codice Ateco. Quindi parliamo di categoria... Esatto, spieghiamo. Il codice Ateco è quella sorta di programmazione ben codificata sulle aziende. Cioè le aziende vengono identificate con un codice, rientrano in una categoria e questo si chiama codice Ateco. Categoria merceologica, questo è importante dire. Quindi non ha una valenza di nazionalità o etnia. Ma parliamo della merce, della merce che, diciamo, si vende al dettaglio perché qui parliamo soprattutto di commercio. La cosa importante che abbiamo notato in altre città ci sono stati anche regolamenti molto più rigidi in questa direzione. Noi abbiamo voluto puntare al... Possiamo anche citare, per esempio, due città toscane che mi pare che siano Arezzo e Firenze. Savona. Anche Savona. Anche Savona. Infatti Savona ha identificato sempre lo stesso con dei codici Ateco. Quindi non è che ci siamo inventati niente. Era una richiesta che arrivava anche dalle associazioni di categoria, ma anche nei mesi passati. Mi arrivavano mail da attività commerciali che chiedevano appunto di mettere un limite e di valorizzare il centro storico anche sul discorso del decoro. Infatti il regolamento, molti si sono soffermati sull'articolo 1 e l'articolo 2, dove appunto abbiamo elencato il codice Ateco che veniamo a limitare. Nell'area 1 sarebbe l'area che riguarda quattro vie del centro storico. Che sono state definite anche nel servizio decumano. Cardo e decumano. Esatto, in realtà sono le due vie principali che si incrociano secondo quella che era la vecchia si può dire modalità di descrivere la viabilità delle vie dei romani. Perché i romani avevano decumano, avevano cardo, avevano queste due vie principali che si incrociavano. Si vede benissimo per esempio a Pompei. E Pesaro ricopre esattamente questa stessa identica proprio piantina. E sono le vie principali dove comunque vediamo anche in estate il turismo che è maggiormente vissuto. E quindi abbiamo pensato di limitare in quelle aree alcune attività che riguardano appunto un codice Ateco ben specifico. Quello che è fondamentale è dire che le attività che sono già aperte nessuno le manderà via. Continueranno ad andare avanti, ci mancherebbe. e nessuno vuole andare a togliere le persone o espropriare che stanno facendo un buon lavoro, che rispettano le regole e non ci sono problemi. Un'altra cosa fondamentale è che le attività che abbiamo limitato nel cardo ed ecumano non sono le stesse che vengono limitate in tutto il centro storico. Quindi la polemica... Definiamo proprio le quattro vie che fanno parte di questo cardo ed ecumano. Sono via San Francesco, il corso 11 settembre, via Rossini e via Branca. Esatto, quelle che si incrociano. Esatto. Nel resto della città, faccio un esempio, via Pedrotti, via Passeri, via Curiel, via Castelfidardo, sono tutte vie che queste attività dove abbiamo limitato in queste quattro vie potranno aprire. Non c'è nessuna limitazione. Dopo abbiamo messo un'ulteriore limitazione invece sul centro storico su attività che chiaramente riguardano sempre identificati tramite codice Ateco, il Comprooro, ad esempio, io mi sono portata al regolamento perché volevo essere precisa e dare... Esatto. Quindi le attività che vengono limitate in tutto il centro storico sono le sale da ballo e discoteche e nightclub. Come se qualcuno, non so, pensasse di aprire una specie di Peter Pan in via Branca. Attività di Comprooro, centri scommesse, commercio al dettaglio di articoli per adulti di sexy shop, ricordiamo quando in passato aveva, mi ricordo, era aperto un negozio nelle vie limitrofe, insomma, del centro era venuta fuori una grande polemica, le attività di carrozzeria, gommista e meccatronico, sale da gioco, attività di vendita, noleggio, bombole a gas infiammabile, attività di centri, massaggi e sensi della legge 14 gennaio 2013, disposizione in materia di professioni non organizzate, quindi non parliamo di estetiste. Anche per fare un altro esempio, pensate, forse qualcuno pensava di aprire un gommista in via Rossini? No, però abbiamo nel centro storico comunque un gommista che potrà continuare a fare il suo lavoro, ci mancherebbe, lo ripeto, perché è stato detto anche in modo forte via dal centro storico queste attività? No, non è così, anzi potranno continuare e in questo modo quelle attività che sono già esistenti che da quando questo regolamento andrà in vigore avranno un valore aggiunto perché non ci saranno altre attività che si aggiungono alle loro in quelle vie. Quindi, Francesca, effettivamente questa è la dimostrazione che in realtà questo regolamento punta a valorizzare ancora di più le imprese del territorio esistenti, i prodotti locali sappiamo che in tantissime città nelle vie principali dei centri sono presenti prodotti locali, sono presenti le eccellenze del territorio quindi questo sarà una motivazione in più per chi già esercita e fa questo tipo di commercio. Esatto, il fine è anche quello di valorizzare le vie secondarie del centro storico perché in questo modo diamo anche una priorità ad aprire nelle vie secondarie come dicevamo prima. Un'altra cosa fondamentale che c'è in questo regolamento sono le attività che sono sfitte quindi parliamo di decoro anche nel senso di bellezza sappiamo benissimo che appunto anche Pesaro è candidata a Città della Cultura quindi è fondamentale anche fare attenzione al decoro del centro storico. Un'altra cosa importante che c'è all'interno del regolamento è proprio gli incentivi che verranno dati alle imprese che vorranno aprire e soprattutto gli incentivi verranno dati all'imprenditoria giovanile e l'imprenditoria femminile perché abbiamo visto dei dati e le statistiche che sono inferiore le attività che in questo momento aprono con questa fascia di imprenditoria femminile e imprenditoria giovanile. È fondamentale aiutare le imprese del nostro territorio io come assessore alle attività economiche penso che non possiamo correre su due binari dobbiamo prendere anche delle decisioni tante volte che sono coraggiose ma è fondamentale valorizzare le nostre attività che sono anni che fanno sacrifici che comunque chiedono aiuto dal centro storico e quindi in qualche modo noi dobbiamo dare una risposta anche perché abbiamo delle attività in centro che sono veramente di alto livello che sono bellissime ma questo non significa che non debbano esserci anche le altre attività che già sono esistenti però questo è un modo per cercare di valorizzare e puntare all'innovazione e anche all'enogastronomia del nostro territorio la politica da tutti i colori politici sento dire valorizzazione del chilometro zero dobbiamo assolutamente puntare alla filiera corta ecco questo è un modo per portare avanti una politica concretamente che si dice da anni parliamo di ecosostenibilità quindi anche tutto questo va a collegarsi a un discorso di ecosostenibilità il nostro territorio ha tanto da dare ed è giusto anche proporlo proporlo ai cittadini quindi ben vengano nuove attività che riguardano l'innovazione ma anche che tengano in considerazione i prodotti enogastronomici del nostro territorio perché è giusto che li facciamo conoscere certo infatti adesso vediamo il servizio che è stato realizzato invece appena due giorni fa sempre da Rossini TV dove il sindaco interviene peraltro proprio prendendo le difese di questa idea di nuovo regolamento sul decoro del centro storico e lui stesso vedrete che prenderà tante delle cose che ci ha già detto Francesca il nuovo regolamento sul decoro urbano di Pesaro che vieta l'apertura di una certa tipologia di nuove attività nel cardo e nel decumano del centro storico ha suscitato un vespaio di polemiche soprattutto attraverso i social dove non manca chi addita il nuovo provvedimento come discriminatorio soprattutto per quello che riguarda le attività etniche sempre attraverso i social il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è oggi voluto intervenire attraverso un video per ripuntualizzare il regolamento stilato dall'assessore Francesca Francoellucci e sedare polemiche ritenute strumentalizzate ho dei commenti abbastanza surreali magari degli stessi che si scandalizzano poi quando in via Branca apre un negozio che vende le mutande allora vi voglio leggere il cambio del regolamento il cambio del regolamento dice che su via Branca via Rossini via San Francesco corso 11 settembre che sono le vie del passeggio ma anche le vie più importanti dal punto di vista del collegamento storico-culturale tra i monumenti della città da adesso in poi non potranno aprire attività merceologiche con una gamma indistinte generalizzata di prodotti famosi bazar perché riteniamo che non abbiano a che fare con la qualità non si potranno aprire gli apparecchi automatici perché altrimenti rischiamo di riempire le vie con gli apparecchi automatici e distributori automatici non potranno aprire attività con cibi da sporto se non tipiche del nostro territorio per capirci non potrà aprire nel kebab nel McDonald's non potranno aprire sale da ballo discoteca e nightclub non ci potranno essere attività di cambio moneta transfer o phone center che non centrano nulla nelle vie principali non ci potranno essere i comproro non ci potranno essere i centri scommesse non ci potranno essere i sexy shop ognuno è libero ad andare al sexy shop magari non nelle vie principali della città così come le lavanderie automatiche e le sale da gioco questo per tutelare il più possibile un'area commerciale che soffre una crisi cronica da anni perché purtroppo da anni il commercio delle piccole attività è in crisi e che adesso soffre una concorrenza fortissima delle vendite online ovviamente non lo possiamo fare su tutte le città anche perché su tutta la città anche perché noi crediamo nelle liberalizzazioni e crediamo che ognuno possa avere e debba avere l'opportunità di aprire l'attività che crede se ovviamente è lecita però nella via principale della città per tutelare visto la crisi del commercio e gli affitti molto alti abbiamo pensato di mettere questo limite per le nuove attività tutte le strumentalizzazioni fatte insomma sono fatte da chi probabilmente non ha letto il regolamento poi sinceramente accusare me di discriminazione penso di essere uno dei sindaci più antirassisti del mondo non soltanto d'Italia lo dimostra la mia storia il mio pensiero e il mio pensiero quotidiano sindaco che ha anche ricordato come il nuovo regolamento sia coerente ad una strategia già avviata e che continuerà con altri interventi nel segno del decoro negli ultimi anni abbiamo liberato il centro storico dalle auto non ci sono più le auto in piazza del popolo non ci sono più le auto davanti ai musei civici non ci sono più le auto davanti al conservatorio in via San Francesco per il corso in piazza che era pieno di macchine della polizia e lo abbiamo fatto appunto per restituire spazio del decoro alla città abbiamo cambiato le insegne ordinando le insegne sia dei contenitori culturali che delle attività economiche e andremo avanti adesso Francesca cercherà di togliere i tanti totem pubblicitari che abbiamo in giro per la città mettendo della cartellonistica nuova elettronica digitale che possa essere un elemento di innovazione al tempo stesso di ordine nella città rifaremo molti selciati a iniziare la piazza del popolo che verrà completamente riqualificata e al tempo stesso come avete visto stiamo portando a Pesaro tantissimi investimenti che riguardano contenitori culturali sia legati al PNRR sia con altri bandi Francesca quindi è un bel endorsement quello di Matteo Ricci nel senso che lui valorizza in pieno il lavoro che tu hai fatto e il lavoro che tu hai fatto come dicevi prima grazie anche all'aiuto di tutte le associazioni oltre alla condivisione di imprese e di cittadini che hanno partecipato agli stati generali dove appunto hanno incentivato ancora di più di andare avanti in questa direzione e ringrazio anche la giunta perché tutta la giunta sta lavorando per in base alle proprie deleghe al decoro del centro storico vediamo comunque il nostro vice sindaco che ha fatto uno splendido lavoro con tutti i palazzi storici per le ristrutturazioni tutti i bandi che insomma il comune di Pesaro ha partecipato e abbiamo vinto come ad esempio sta lavorando l'assessore Belloni per cercare di puntare ancora di più alla pulizia della città e per tutto questo ci stiamo mettendo tanto impegno in questi giorni ho visto soprattutto purtroppo i social sì sono un canale fondamentale ma tante volte mi rendo conto che le persone chiaramente dicono la propria opinione magari senza aver letto il regolamento e essersi resi conto che non c'è niente di discriminatorio anzi si punta a valorizzare il nostro territorio ma senza lasciare indietro nessuno beh sai l'abbiamo detto prima purtroppo tante volte queste decisioni vengono strumentalizzate vengono strumentalizzate a tutti i livelli vengono strumentalizzate ovviamente politicamente ma non solo l'abbiamo già detto mediaticamente e quindi si è creata questa condizione che è veramente peraltro antitetica a tutti quelli che sono i valori non solo io dico degli amministratori comunali di Pesaro ma si può dire di tutti noi il razzismo non esiste non esiste certamente nessuna volontà di far prevalere un'etnia sull'altra esiste solamente l'idea di proporre un qualcosa di nuovo per rendere migliore il centro storico esatto e aggiungo anche che la maggior parte delle imprese che andiamo a limitare sono gestite da persone che comunque sono pesaresi o comunque sono italiani non sono persone di altre etnie questo già lo fa capire che quindi si sono prese delle decisioni non certo per le etnie o per altri motivi ma si è seguito il codice teco e guardare la merciologia e di non essere ripetitivi con le attività che già sono esistenti considerate poi che due giorni fa è stato il 27 gennaio il 27 gennaio è una data che tutti dovrebbero sempre ricordare è il giorno della memoria è il giorno della memoria che ci ricorda quello che è successo durante la seconda guerra mondiale e che chissà perché qualche negazionista dice non essere accaduto ma sappiamo benissimo in realtà quello che è accaduto nei campi di concentramento sparsi per tutta Europa e a dimostrazione del fatto che il comune di Pesaro veramente la parola razzismo non sa cosa significa guardiamoci il servizio che abbiamo realizzato proprio sull'iniziativa cui ha partecipato per esempio il presidente del consiglio comunale Perugini dando grandissima forza a questi ragazzi che in realtà pur essendo giovani la prima cosa che fanno è quella di non voler dimenticare Le restrizioni da pandemia non mettono limiti all'obbligo di ricordare così il 27 gennaio giorno della memoria a 77 anni dalla liberazione di Auschwitz diventa la responsabilità della memoria titolo di una giornata che ha visto istituzioni e scuole pesaresi distanti fisicamente ma unite in una grande diretta streaming trasmessa anche da Rossini TV che ha convogliato in collegamento tutti gli istituti superiori pesaresi e il conservatorio Rossini nell'esposizione di elaborati frutto del lavoro durante l'anno scolastico otto scuole che hanno esposto in podcast laboratoriali le otto oppressioni della persecuzione nazista codificate in triangoli otto triangoli per commemorare la discriminazione a ebrei omosessuali prigionieri politici delinquenti comuni emigrati asociali rom e testimoni di Geova Marco Perugini presidente del consiglio comunale è stato regista della videoconferenza assieme al liceo Marconi e ha voluto aggiungere anche una nona oppressione spesso dimenticata vi volevo parlare appunto di quello che oggi non troviamo nei triangoli i triangoli non parlano appunto di questa eutanasia nazista di cui si è parlato forse poco i disabili mentali e coloro che erano affetti da malattie genetiche erano per i nazisti coloro che vivevano vite indegne di non essere vite indegne di essere vissute per questo hanno vissuto una discriminazione frutto di un disegno molto preciso quello dell'action T4 l'azione T4 loro venivano uccisi venivano perseguitati chiaramente solo perché erano nati diversi battaglie all'odio che hanno ricevuto l'applauso in streaming del prefetto Ricciardi del sindaco Ricci dell'assessora alla crescita Camilla Murgia e del direttore dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni più il tempo passa più il ricordo sbiadisce più diventano flebili le voci dei sopravvissuti più voi ragazzi avete la responsabilità di conservare la memoria di questi tragici e terribili accadimenti perché non si abbiano più a ripetere Francesca si dice tante volte che la cultura parte proprio dalle scuole la cultura parte dai giovani io credo che sia così tutto dovrebbe essere insegnato nelle scuole ma addirittura nelle scuole elementari per far capire ai bambini sin da quanto crescono quali sono i veri valori della vita sì esatto ho notato anche il presidente del consiglio ha fatto un ottimo lavoro e mi complimento perché è fondamentale andare a coinvolgere i giovani chiaramente intendiamo il presidente del consiglio Perugini non Draghi lo sottolineiamo ha fatto un ottimo lavoro anche Draghi però noi ci riferiamo a Pesaro sì esatto parliamo di Marco Perugini che ha fatto un ottimo lavoro e ogni anno vedo che si dà tanto da fare ma tutta l'amministrazione comunale è sempre presente di fronte a queste iniziative ed è importante ricordare è importante anche ai nostri figli continuare a ricordare e far capire quello che è successo di quanto sia stato grave sì anche perché questo aspetto della cultura sin dalla più giovane età è proprio quello che pensiamo possa essere l'antidono l'antidoto scusate per poi quelle che sono situazioni che non vorremmo mai vedere come per esempio quella delle violenze di Milano o come a tante altre situazioni nelle quali i giovani forse non avendo quel tipo di valore non avendolo mai recepito da noi adulti perché siamo noi adulti primi responsabili a non dargli questi valori ecco che poi succedono queste cose esatto infatti come anche genitore di tre figli ho sempre cercato di far capire che sono assolutamente cose sbagliate ma vedo che anche le scuole fanno un ottimo lavoro perché partendo dai ragazzi partiamo dai giovani facciamo crescere una generazione che sia contro l'odio contro la discriminazione di ogni genere bravissima che non conosca nemmeno il significato della parola odio grazie Francesca è stato molto interessante ti ringraziamo perché ci sei riuscita a spiegare in maniera molto sintetica e allo stesso tempo approfondita questa novità del decoro cittadino grazie Francesca grazie ringrazio anche a voi per l'opportunità che mi avete dato grazie quindi di averci seguito fino in fondo grazie di essere stati con noi carissimi telespettatori e amici di Rossini TV l'appuntamento fra due settimane buon weekend a tutti grazie a tutti grazie a tutti